Buongiorno dal Corriere di Sciacca, oggi è sabato 15 luglio. Rinvio a giudizio per tre medici della Fondazione Maugere di Ribera che non avrebbero diagnosticato una embolia polmonare ad una donna di 37 anni di Sciacca che poi morì. A decidere il rinvio a giudizio accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca. A darne notizia è la GS Risarcimento d'Anni, la società a cui si sono affidati i familiari di Laura Agulino, morta nell'estate del 2020. Gli accertamenti sostengono dalla GS vennero effettuati solo tre giorni dopo il ricovero, quando il quadro clinico è precipitato e la donna è morta. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ha condannato tre dipendenti ANAS ad una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Si tratta dell'ingegnere Maria Rita Giglione, del geometra Emanuele Montanalampo e dell'operaio Alfonso Giglia sono ritenuti responsabili di omicidio colposo, non avrebbero segnalato in maniera adeguata la presenza di un cantiere per rimuovere radici degli alberi sulla careggiata della passaggiata archeologica di Agrigento. Il 1 ottobre del 2017 in quel luogo era un incidente in moto, morì il 17enne Giuseppe Barbato di Porto Empedocle. Le dimissioni per giusta causa del primario del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, che tanto clamore hanno destato in questi giorni con le accuse all'azienda sanitaria provinciale, approdano in Parlamento. C'è un'interrogazione di Ila Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle. L'episodio, dice la Carmina, ripetendo ciò che aveva detto alcuni giorni fa in una precedente denuncia, il deputato regionale Michele Catanzaro rappresenta la punta di un iceberg, di un sistema del tutto allo sbando. Il governo regionale, fino ad oggi, non ha dato risposte. Prosegue la protesta dei lavoratori del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che aspettano ancora di riscuotere gli stipendi dei mesi arretrati. Dopo il confronto in Prefettura, la conferma dello stato di agitazione, adesso i sindacati chiedono un incontro, un nuovo incontro con l'assessore regionale Luca San Martino, per definire ulteriori percorsi e mettere al sicuro i lavoratori e le loro famiglie. Tre comuni agrigentini, Santo Stefano Quesquina, Sambuca di Sicilia e Agrigento, hanno sottoscritto il protocollo della Carta delle Città della Bellezza, in virtù delle peculiarità patrimoniali, storico-artistiche, monumentali, turistiche e naturalistiche dei loro rispettivi territori. Tutto questo a margine di una iniziativa, quella sugli stati generali della bellezza, che si è tenuta ad Andrea, organizzata dall'Associazione Autonomie Locali. Calcio, un portiere giovane promettente nel nuovo organico dell'Unità 6H, in vista del prossimo campionato di eccellenza, si tratta di Pietro Licata, classe 2005, che nello scorso torneo di promozione con il Castel Termini ha mostrato grandi potenzialità. Licata, lo scorso anno, ha partecipato anche alla Viareggio Cup Primavera con una squadra spagnola, ed era nel tranquillo di diverse società di eccellenza, serie D, per il sodalizio preseduto da Pasquale Bettivegna, si tratta di un ottimo colpo di mercato. È tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.